però vista ma cosa sto facendo mi sto facendo il gelato il gelato ma con la neve risolvere i problemi dell'economia aprire una fabbrica del gelato qui asiago perché abbiamo della neve purissima l'ho fatta controllare un laboratorio scientifico prendo un po di neve vedi seguimi 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 vieni 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 veloce se no si scioglie la questa si che è una novità non scappi in quel modo ecco vedi qui c'è già della neve che ho preso prima si fa così guarda prendi poi della palla in frigo poi io uso anche il miele poi si puoi per esempio quello che ho fatto oggi questo è un gelato che ho fatto oggi avevo messo anche meraviglioso come si chiamano queste le ciliegine le amarene le amarene bravissima basta prendere un po di neve metterla qui prendere gli ingredienti mettere un po di panna un po di miele ecco miele naturale vedi mettiamo il miele poi carissima amica ecco risolta la crisi italiana facendo il gelato in casa basta avere un moltiplicatore si mette qui si fa girare guarda guarda vedi gelato guarda anche qui guarda vediamo la neve prendiamo tanta neve bianca più neve bianca ci mettiamo e più gelato può condensare possiamo aggiungere anche la panna e alla fine lo versiamo in un bicchiere questo l'ho messo in frigo prima e si può fare un bel gelato alla bella napoletana tipo una granita è una granita ma dipende adesso questa è una cosa poi vi farò vedere altre ricette si può aggiungere anche un po di sale e zucchero per avere più schiuma o del bicarbonato ma vi sto dicendo troppi segreti adesso mi bevo ci fermiamo qui allora sì sì d'accordo ciao ragazzi sempre per cuochi mai visti grazie delle tue trovate delle tue ricette già chiuso no non ho chiuso volevo dire poi c'è questo programma nuovo che sarà in streaming come fa grillo su il pc sul vostro computer in streaming a casa che farò vedere i segreti del gelataio pazzo ciao da parovista gelataio pazzo ciao ciao ciao